Avviato un confronto fra i commercianti e l'amministrazione comunale di Battipaglia. Le parti si sono incontrate più volte al fine di raggiungere un'intesa sul rilancio del commercio locale, soprattutto in vista della stagione estiva. A fare il punto della situazione il presidente di Confcommercio Battipaglia, Massimo Sorvillo. Devo dare anche a voi merito un po' di questa interlocuzione, perché da quando abbiamo fatto il nostro appello, ormai ogni giovedì abbiamo questo appuntamento con l'assessore. Partecipa anche altre volte l'altro assessore Cerullo per quanto riguarda eventi e situazioni sul territorio. Sicuramente è positivo, sono gli argomenti che bisogna portare a termine. Ho visto anche una loro dichiarazione su quello che stiamo facendo. L'obiettivo è quello di portare a Battipaglia il distretto turistico. Anche in forma commerciale è un percorso lungo, noi ci crediamo. Per fare questo è necessario che venga comunque portato a termine la vita del centro naturale. Questa l'amministrazione si sta impegnando in una collaborazione non solo col presidente, ma anche col supporto di tutte quante le associazioni. Cerchiamo di portarlo a termine questa situazione, o dentro o fuori. Però dobbiamo capire che cosa succede. Sappiamo che c'è un bel importo, non è tanto e neanche poco 50.000 euro. C'è un cartellone che sta preparando l'amministrazione con le manifestazioni, perché non sapendo cosa succede nel mese di giugno, noi come Confcommercio vogliamo dare delle idee, portare un po' di vita con della musica nei quartieri, non solo nelle solite strade, perché incomincia molti localini con lo fatto di avere lo spazio esterno a disposizione gratuito, sta incominciando a muoversi delle attività. Quindi portare una musica giovanile all'interno dei quartieri esterni, quello di fare pensare a un aperitivo di Battipaglia. è stato già lanciato a Salerno, con la Confcommercio è andato molto bene, perché non lanciare un aperitivo della città di Battipaglia, e poi contare sulla mozzarella, cioè far venire le persone per la mozzarella. Siamo una delle città storiche che può vantarsi di avere il marchio d'occhio per la mozzarella.